ciao e benvenuti in un nuovo video di motorbike days oggi finalmente ricomincia la stagione della pista purtroppo il tempo non è eccezionale siamo al mugello adesso ti farò vedere un po e niente dai sono arrivato adesso scarico la roba che ho ancora la moto sul carrello e ci vediamo dopo eccoci pronti io sono pronto il tempo insomma non è tanto comunque intanto ho messo la moto sui cavalletti termocoperte montare il tavolino tutto accettato scarico responsabilità fatto preso il trasponder ora monta il trasponder e si aspetta il tempo bello primo turno andato pista un po mezzo e mezzo poi ha cominciato anche a ripio piscolare sull'ultima parte del turno sono rientrato però intanto ho provato la moto tutto a posto perché era la prima volta e provavo il nuovo mezzo e kawasaki e funziona funziona bene dai adesso merendina e speriamo che asciughi ancora di più sta uscendo un po il sole ci vediamo al secondo turno ciao 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 Secondo turno andato, pista quasi perfetta, fa un bel po' di fresco, come possiamo vedere Andri, bello tappato, venticello, freschino, speriamo nel pomeriggio dovrebbe uscire definitivamente il sole, speriamo bene, e ora mezzogiorno e mezzo, ultimo turno della mattina, poi pausa pranzo e ci vediamo dopo. Sono cambiato, bello freschino, infatti giubbotto ancora, è arrivato Andri, bene, sono arrivati tutti, soddisfatto perché 2.7.2 mi sembra, quasi come i best di CBR dell'anno scorso, super soddisfatto, adesso con calma pranziamo e dopo MotoGP, fondamentale per MotoGP con SkyGo, e dopo 14.40, rinizio con i tre turni al pomeriggio, gas! Eccoli lì, belli a setta! Guarda lì, con la gas anche! Guarda, 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 guarda Grazie a tutti. 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 Iscriviti al canale MotorbikeDance, il nostro canale YouTube, è gratis, mi raccomando, iscriviti e ci aiuti a supportarci un po'. Ti ringrazio, ti ringrazio, ci vediamo alla prossima pistola, ci vediamo alla prossima pistata e al prossimo giro.